Mia Ustensi racconta le sue vacanze. Per prima cosa siamo andati in aereo a trovare i nonni spagnoli e i gagnolini che trovavano in Spagna, Goku, Loppi e Copita. Poi siamo andati in un negozio, stavamo a fare il shopping con le zie, e abbiamo trovato un negozio, il mio animale preferito era il maiale, e quindi c'era tutto il calendario, il maiale, la propria maiale, la vostra maiale, tutto. Poi abbiamo poi fatto il shopping, poi siamo tornati a casa e li abbiamo visitato di nuovo i nonni. Poi siamo ritornati a Macerata e dopo un po' di tempo siamo andati a Napoli, dove siamo andati a Pompei, ovviamente mi piaceva a me. E siamo andati in hotel, ed eravamo alla Torre del Graco in hotel. Poi siamo andati un giorno a Napoli e siamo anche andati in chiesa, molte volte. Poi abbiamo fatto anche un po' shopping, credo, e mi sono comprata questo vestito. Poi siamo andati dopo di tornare a Macerata e per l'ultima cosa, prima di tornare a Macerata, siamo andati a Capi in barca. Poi abbiamo fatto anche un po' di tempo,